Quanto è importante continuare la striscia positiva, visto che da quale trovato il mister sono risultati utili? Importantissimo, perché di l'autostima, sicuramente se si vinceva oggi era ancora più bello, però continuare la striscia positiva è la cosa più importante, è pensare subito alla partita successiva e di fare bene. Daniele, il Benevento ha attaccato per sempre dalla tua fascia di conversa, perché è stato difficile reggere il ritmo per tutti i momenti? Sì, sicuramente è stato difficile perché avevamo Mellara e Mazzeo, che sono due giocatori molto esperti di categoria, è stata una partita maschera, poi purtroppo la sfortuna c'è stato fatto gol, però per il resto è andata bene, la squadra ha giocato bene, ha saputo difendersi e le ripartenze le abbiamo sfruttate molto bene. bene così, grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti